Incontro in regione tra le associazioni unite contro la discarica Martucci di Conversano e l'assessore regionale alla tutela ambientale Ana Grazia Maraschio. Nell'ultimo incontro del 27 aprile furono segnalate alcune criticità e danni già certificati che fanno dell'area vasta di Martucci, secondo il comitato No Martucci, uno dei siti più compromessi dell'intera Puglia. Noi abbiamo chiesto lo stralcio definitivo di Martucci e la messa in sicurezza dei lotti e delle aree circostanti. Tutto la luce di quanto è già immerso da diverse indagini. Per cui l'incontro di oggi non ha assortito questo effetto, nel senso che la regione tende a una sostanziale riapertura della vasca A e quindi probabilmente anche della vasca B, perché sono due le vasche che solo insistono su quel complesso. E noi non siamo assolutamente d'accordo perché tutto è già dimostrato e non possiamo aggiungere a tutti i danni che ci sono altri problemi. I danni sono quelli certificati dall'ARPA Puglia, con percolato non raccolto per otto anni e non ritrovato nei pozzi immediatamente, tanto che hanno deliberato una nuova indagine sugli stessi lotti. E l'8-1 che addirittura è stato scoperchiato, era stato messo in sicurezza, è scoperchiato e ha ricominciato a riprodurre percolato. E l'8-1 fatto in tempi in cui non era prevista la captazione e né era previsto il telo HDPE che serve per contenere il percolato. Il Comitato non si ferma? Assolutamente no, se le cose dovesse andare così è evidente, noi abbiamo già chiamato alla mobilitazione i cittadini e non staremo certamente fermi, non accettiamo questa soluzione.